Una campagna breve concentrata per la nuova coalizione azioni Italia Viva Calenda, cavalcata con passione, che ha portato a dei risultati soddisfacenti, specie in Lombardia dove in certi collegi, ad esempio a Milano, ha superato il 16%. Bianca Baruelli all'indomani delle elezioni che l'hanno vista candidata alla Camera per il terzo polo, sia all'uninominale sia al proporzionale, è soddisfatta dell'esito delle elezioni, sebbene a livello nazionale la nuova coalizione non arrivi all'8%. È decisamente l'inizio di un grande percorso, io penso che il raggiungimento di quelle percentuali che non hanno sfiorato magari il 10% come si attendeva a livello nazionale, però insomma per quanto mi riguarda il collegio uninominale di Lodi che mi era stato affidato, è stato un collegio che ha portato decisamente numeri importanti. Si è superato l'11%, anche sui territori di Pavia e tutto il sud Milano, abbiamo visto, le percentuali addirittura hanno rasentato anche il 13% o il 14%. Contenta di aver offerto il proprio contributo in un progetto in cui crede. Io ritengo che di aver lavorato bene, quel Quid Plus che poteva essere un portato al territorio anche in funzione della mia conoscenza, io penso di aver soddisfatto un po' quelle che erano le attese. Le fondamenta sono state messe, ora pensa a lavorare sodo perché il terzo polo abbia un futuro. Un progetto interessante sul quale lavorare, da approfondire, diciamo che la soddisfazione come primo step sicuramente è tanta, che se pensiamo che è un terzo polo che si è presentato l'altro ieri, perché ricordo che la caduta del governo Draghi è del 21 di luglio, è chiaro che in due mesi si è fatto tanto secondo me.